E ciao ragazzi qui è Sabit e benvenuti in questo video delle richieste di Xenoverse 2 Allora, quest'oggi faremo una richiesta molto intuitiva, anche se in realtà già l'avevo fatto una mia versione Cominciamo subito ad usare il vigore alla cazzo di cane, eh, perfetto Allora, quest'oggi vedremo Goku Super Saiyan Dio contro Goku Super Saiyan Blue E te pareva, te pareva, perché hai il vigore troppo basso Grazie al cazzo, ora ti faccio vedere io, non ti preoccupa Ok, facciamolo un attimo a Nanna Vedi, ti muori un attimo Vieni qua Cazzo, questo si che fa male Madonna, che Che cazzo fai? Ok Stai un attimo calmo Ok, vai Volevo fa così Vai subito Non mi pare Ok Ok, primo round è andato abbastanza bene ragazzi, come vi posso dire È andato abbastanza bene, però facciamo sempre un po' più di attenzione la prossima volta Cazzo Davanti, avanti, avanti Ok Bom, 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 bom Perfetto Aspetta, fammi un attimo caricare Ok 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 Pure con l'onda energetica è andata abbastanza bene Quindi muoiamoci Non credere proprio Non avendo vigore, grazie al cavolo che non ti giri subito Goku, eh Grazie a quello Facciamo un po' più di attenzione Molto bene Scontro conclusivo Va benissimo ragazzi Non accetto altre vostre richieste per ora Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento Iscrivetevi al canale Qua da Sabit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti